Bella a tutti ragazzi, sono Petsco Oggi eccomi tornato con un nuovo video su The Crew Un gioco davvero bello per chi è amante delle auto Oggi vi farò vedere una cosa davvero stranissima che ho scoperto su questo gioco Ovvero la presenza di... Una cosa che non vi dirò adesso, ma la scopriremo fra poco Ok ragazzi, finalmente ce l'ho fatta Guardate lì davanti a me, proprio davanti alla mia auto Cosa c'è? Aspettate Ve lo faccio vedere meglio Lì proprio davanti a me C'è un bel unicorno Guardate lì Non mi posso avvicinare molto perché se no scappa Eccolo, sta venendo dalla nostra parte un unicorno Un unicorno in The Crew Guardate, un unicorno bianco Ora sta... Sta scappando Eccolo là, inseguiamo l'unicorno Eccolo Vedete? Un unicorno Dove vai? Dio l'albero Va bene, in poche parole sono all'inseguimento di un unicorno Per farvi capire Questo è un unicorno Questo è un unicorno Abbiamo un unicorno in The Crew Ora lo investo No, non ce la faccio Guardate, sto abbassando Gira sempre Vediamo se zoom Se si vede No, è un albero Dove è andato? Vabbè, è scomparso l'unicorno Ok ragazzi, finalmente ce l'ho fatta Sono stato tipo mezz'ora a girare e non riuscivo a trovare questo cacchio d'unicorno Questa era la sorpresa, ovvero un bellissimo unicorno in The Crew Spero ragazzi vi sia piaciuto il video Mi raccomando lasciate un like Iscrivetevi al canale Lasciatemi un commento Seguitemi su Instagram, Twitter, Facebook Ovunque volete Condividete i miei video E ragazzi ci vediamo con il prossimo video Ciao a tutti